Fondo Italia ci troviamo con Elisa Vittorsi, ci troviamo al poligono di tiro di Luca dove si sta svolgendo la preparazione della squadra azzura dove è iniziata la preparazione tra Viareggio e Luca, intanto Elisa com'è un po' ritornare, ritrovare le compagne? Mi dicevi che queste sono le prime serie che fai da quando è finita la stagione? Sì, diciamo che mi sono presa un po' di tempo per ricaricare le batterie perché a fine stagione ero molto scarica, però sono contenta di ripartire, siamo un gruppo molto grande e molto giovane, quindi sono stata contenta di ritrovarci insieme e di iniziare comunque la stagione al mare, anche se il tempo non è dei migliori, Sì, però stiamo bene e abbiamo iniziato oggi a sparare, quindi una giornata positiva. L'anno scorso mi avevi detto anche in fine stagione che anche mentalmente eri molto stanca, quanto è stato utile fermarsi, andare anche in vacanza? Decisamente la stagione dell'anno scorso è stata soddisfacente ma molto stancante, ovviamente devi sempre rimanere con la concentrazione alta e quindi a fine stagione ero molto scarica, però diciamo che ho saputo riprendermi i miei spazi e staccare del tutto dal biathlon e quindi adesso sono come nuova. Senti, com'è quest'anno essere ritornata qui? Nel senso rispetto all'anno scorso, se vuoi fare un confronto della lista che si è presentata al raduno l'anno scorso, magari anche tra un po' di incognite, si cambiava anche lo staff tecnico e tutto questo e oggi insomma, forse anche con maggior convinzione e certezze. Sì, l'anno scorso sicuramente è stato un inizio di stagione un po' più dubbioso, tante domande, tanti dubbi. Sicuramente quest'anno è diverso perché arrivo che comunque ho fatto una passata stagione molto positiva, anche pur sapendo di dover migliorare su certi aspetti e quello è quello che ho intenzione di lavorare durante quest'estate e la motivazione non mi manca mai perché quella è sempre molto alta e quindi sono positiva che questa stagione sarà soddisfacente. Senti, a proposito, ne hai parlato un po', volevo capire anche questo, non te l'ho chiesto magari nel finale della passata stagione proprio perché eri anche un po' stanca, giustamente, mentalmente, quindi però dopo aver riposato e tutto immagino che adesso avrai un po' ragionato anche a mente fredda su quella che è stata la passata stagione e quindi avrai colto anche quegli aspetti da migliorare ulteriormente. Sì, gli aspetti da migliorare li avevo già immagazzinati bene durante la scorsa stagione perché comunque in alcune gare non ero molto soddisfatta di certe cose che ho fatto per come mi sono approcciata e quindi so quali sono gli aspetti da migliorare e me ne sono accorta già durante la passata stagione e quindi cercherò in quella direzione per poter alzare il livello ulteriormente perché ho sì dimostrato di essere lì però voglio comunque cercare di essere il più costante possibile anche perché con il discorso degli scarti non è sempre facile essere sempre lì. Fa tanto la differenza. Senti, una curiosità, si riesce a tenere sempre alta la concentrazione durante la preparazione? Perché comunque voi iniziate a maggio e la stagione inizia a novembre, magari rispetto per esempio a un calciatore che inizia a luglio e già ad agosto è il campionato, forse è un po' più difficile con la stagione così lontana tenere sempre alta la concentrazione. Sì, è difficile però penso sia molto più difficile d'inverno rispetto all'estate perché d'estate comunque non hai le gare, hai gli allenamenti importanti che magari dei test, dei veloci che comunque mentalmente devi essere settato come in gara per poter avvicinarti alla situazione gara però non è tutta l'estate così, quindi ci sono momenti in cui non devi essere così concentrato e ci sono momenti in cui è un po' più intenso e devi essere molto più concentrato però rispetto all'inverno è molto più, diciamo, easy, anche se l'allenamento è più duro, fisicamente forse, più che mentalmente. L'ultima cosa è una curiosità che ho da Oberhof, praticamente. Mi racconti un po' com'è stato difficile per te quei giorni? Perché ti sei trovata improvvisamente a dover dar forfait e quindi volevo chiederti cosa hai provato in quel momento però poi il lunedì quando ti sei prontata lì al poligone hai capito che avresti gareggiato da che io lì voglio capire che sensazione hai avuto e se comunque quando hai affrontato l'individuale sapevi di poter comunque rendere bene. Allora, dopo la sprint sì, stavo male, ho fatto la notte in bianco e il giorno dopo avevo la febbre a 39 e avevo le ossa rotte e non è stata una bella sensazione perché ero arrivata al mondiale con le migliori sensazioni che avevo fino a quel momento la forma c'era e sapevo che potevo fare bene quindi ovviamente saltarle in seguimento è stata una pugnalata però non mi sono data per vinta e ho cercato di recuperare il più velocemente possibile ovviamente sono stata fortunata perché non era un'influenza che mi è durata una settimana però è stata dura perché comunque ho fatto tre giorni di tachipirina e il fisico era un po' debilitato però volevo veramente partecipare all'individuale, era la mia gara e ho fatto di tutto per poter gareggiare lunedì mattina sono andata all'allenamento anche se era uno straccio e ho cercato di testarmi e vedere un po' come andava e alla fine martedì ho deciso di partecipare all'individuale ovviamente il giorno della gara non mi aspettavo una medaglia perché ovviamente la gara è diversa dall'allenamento non sai mai che sensazioni puoi avere quindi il mio obiettivo era limitare i danni però con l'andare della gara vedere che sensazioni avevo ho fatto il primo giro che ero partita un po' con la retromarcia e vedevo che avevo quasi tempi migliori quindi ho proseguito la gara stando sul mio, facendo il mio lavoro anche al poligono e devo dire che è andata bene è stato soddisfacente anche se ho mancato l'oro per un soffio però è stato tutto l'insieme molto stancante però molto soddisfacente sicuramente puoi essere orgogliosa di te sì sì, beh in quel momento lo ero veramente tanto non era facile però ho tirato fuori le unghie